Fermi tutti raga, ho intenzione di regalare una skin a caso ogni giorno, ha chiuso il codice cap e mi tagga su Instagram Oggi per esempio regalo alla skin Loser Fruit, la compro come regalo e la regalo a Cesare Bossette che mi supporta col codice cap Continua, BOOM! Tutti i regali sono stati consegnati raga, codice cap nei negozi oggetti, se anche voi volete ricevere questi regali e taggatevi su Instagram Oggi raga siamo con Calvish per fare una nuova challenge epica, infatti l'abbiamo fatto con Deadpool, l'abbiamo fatto con Mida della vecchia agenzia L'abbiamo fatto con Brutus, l'abbiamo fatto con Miascolo, l'abbiamo fatto con chiunque regà, ci manca Jules dell'autorità Oggi Calpi dovremmo fingerci Jules per tutta la partita e la cosa complicata è che ci va un casino di gente all'autorità, ma proprio tanta E quindi regà questa qui è difficile della challenge Anche perché Calpi sinceramente non ne ho idea di dove cavolo spawni Jules, cioè proprio non ne ho più pari di idea, te sai per caso dove spawna? Ah più o meno sì, però ogni tanto tipo spawna dove cavolo vuole lei Ok, ma spawna fuori o dentro all'autorità? Sempre dentro in teoria Ok, sempre dentro, perfetto, niente male, niente male come challenge Evitate che vi ricordo, racconto come al solito, 5 secondi per lasciare un bel like a questo video 5, 4, 3, 2, 1 E non dimenticate di iscrivervi al canale Calpi penso di essere droppato abbastanza bene l'agenzia Sì, anche te non è che sei... no vabbè, si è messi bene entrambe, ti dico la verità Ok, dove bisogna andare per arrivare a Jules e quale arma a Jules? Tipo qua e c'ha la Thompson Ok, ha la Thompson, giusto, giusto, giusto Sì, sì, la Thompson Ok, dentro qualcunicolino, ok, ho capito, ho capito, prendo l'R Così dopo siamo subito Vai, uccidi gli scagnozzetti, Calpis, bravissimo Allora, bisogna entrare dentro, uccidere Jules, fare tutto velocissimo perché non dobbiamo assolutamente confrontarci con i nemici Quindi, allora Ok, ho un bel R Via lo scagnozzo, perfetto Ok, ho trovato Jules Poverissimo 49, 49, 49, 49, 49, 49 Morto Jules Perfetto, in realtà è una femmina Orco, cacchio Vai, Calpi Cioè, Mida che era un maschio Perfetto Cioè, Mida che era un maschio e lo chiamavo sempre femmina Però, con i nomi veramente Giuse che era femmina e lo chiamavo sempre maschio Vai, allora Jules è un nome da maschio Perfetto Ma Jules è un nome da maschio e Mida è un nome da femmina Cioè, raga, è incredibile Complimenti, Epic Sempre sul passo con i nomi Vai Let's go, andiamo Calpi Sono diventato uno scagnozzo Io sono un perfetto Jules Ok, te sei uno scagnozzo Ottimo, ottimo, ottimo Bel lavoro di squadra, Calpi, bel lavoro di squadra Quindi, io ucciderò gli scagnozzo Calpi, fermo Sì Mi sa che ho sentito gente Allora, io mi metto qui Ci sei? Oh Lo ammazzo io lo schiamavo, tranquillo Perfetto Ok, cerchiamo di finirlo Perché ho paura Vabbè, ti metti sopra lontano da me Ora, Calpi, io sto qui Cammino sempre piano Ecco, 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 un tizio davanti a noi Calpi, l'ho visto correre verso nord Arrivo Te non sparare No, 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 sei fermato sopra Però, Calpi, devi stare ad un punto in cui puoi raggiungermi Con i prigietti lì Eh, perché se mi sparano Ok, adesso ti posso raggiungere Perfetto Ora mi puoi raggiungere? Ottimo, ottimo, ottimo Let's go Fantastico, Calpi Direi che si è messi alla grande Meglio di così non si può Aspettiamo solo i nemici Aspettiamo i nemici Io sto qui fermo, regà Per ora non dovrebbe in giro arrivare nessuno Perché non sento nessuno Forse abbiamo gente fuori, Calpi Fuori Oh, io non li usavo Dietro di me, Tioria Eccoli, eccoli, eccoli Sono sopra di me, Calpi, li vedo Porcacchio Io sto fermi Calpi, sono sopra di me e davanti a me Regà, comunque se la gente cercherà ovviamente di spararmi lo stesso Anche perché, cioè, in teoria la gente è convinta di uccidere Jules in questo momento E invece ucciderà il capitano E Calpi, sono lo scagnozzo amico Ma sta rissando? Ma no, non penso Sì, sì, sta rissando Ok, aspettiamoli, aspettiamoli Eh, però Calpi non possiamo dare di uccidere quelli che restano Sì, sentili Sì, 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 sta rissando Chi è Oceano? Gli Oceani? Eh, tra il boss, quello alla fortiglia È fortissimo Ah, ok Ma, Calpi, no, no, mi sparano No, hanno rebuttato Sì, sì, ma mi sparano da nord, Calpi Let's go Mi sparo No, 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 no Grandissimo, Calpi Mamma mia, che teamwork Grande, Calpi Ok, torno indietro, torno indietro Devo tornare a scagnozzo, un secondo Grandissimo, vai, vai, torna a scagnozzo Perfetto, io mi faccio il mini Ne hai solo uno di mini? Eh, sì, purtroppo Ok, tranquillo Rompo le build Vieni qui, Calpi C'è altra gente che fighta Sì, lo vissi Calpi, allora, stiamo attenti Non è strano che nessuno venga Cioè, sono pochi Sì, ma a me servono cure Quale è il problema? Andiamo nel piano sopra, Calpi Abbiamo meno probabilità che ci uccideranno nel piano sopra Vero, vero, vero Perfetto, perfetto, perfetto Dobbiamo stare molto attenti, eh Perché sono praticamente defunto Ho pochissima vita Sono in piedi per miracolo Vai Ok, stiamo qui attaccati Sì, sì, stiamo qui attaccati Ora, in teoria la gente dovrebbe arrivare da 120 Eh, sì Molto, molto, molto probabile Fuori che sparano Sì, tipo da est, da quelle zone lì C'è ancora gente all'autorità E comunque ci va molto bene Gente dell'agenzia, eh, Calpi Eh, sì, ma perché è un po' strano come posto È tutto incasinato Allora, è vero È strano e incasinato Però una volta che lo conosci Non è mica male come drop, eh Non è per niente male Anche perché sei al centro della mappa Quindi la safe, ecco Non è quasi mai un problema Airdrop Perfetto Capi, c'è un tizio Non mi ha visto Oddio Ma è siccato No, vabbè, regà What? Calpi Ma non c'è C'è proprio C'è ignorato Ma è possibile Segno, eh, ma perché lui è convinto di vedere Jules E quindi magari non la vuole uccidere subito Che fanno Calpi, attento È diventato uno scagnozzo È diventato scagnozzo Sì, sì Allora io non potrei uccidere Vabbè, gli sparo lo stesso Vabbè, io ho la X Vuol dire che non posso sparare Sì, sì, identico Perfetto Cioè, regà Come fai a capire che sono Jules fake? Sono fermo Con la sua arma Calpi, eccolo Non lo vedo 3, 2, 1, vai Vai Uccidilo, Calpi Ho ucciso Mamma mia, let's go Poverino Calpi, stai attento Ritorna scagnozzo Scagnozzo, sì, sì Ah, vai, perfetto Ma era morto subito oppure è noccato? Morto subito, morto subito Perfetto, ok Allora prendo le sue bende Oh, buonissimo Aveva la P90, Calpi Prendi la tela P90 Dammi col PR se ne hai Col PR Ne ho 236, let's go Vai, prenditi Col pompa Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho Grazie mille Vai, perfetto Calpi Ritorna da sopra Vai, ok Rompi le build e torna da sopra Ti dici che c'è qualcun altro che verrà all'agenzia? Forse no Però dagli altri posti possono venire Sì, esatto Dagli altri posti potrebbero arrivare È ragione E più che altro, Calpi Abbiamo anche la chiave del bunker Quindi, ok Io direi Andiamo a aprire il bunker Ok, è vero Tanto chi cavolo se ne accorge Sì, sì, infatti Cioè, non credo che adesso qualcuno arrivi Giusto per trovare Jules Calpi Gente Ok Ho abitato te No, come? No, mi sa che hai abitato te Ah, ho abitato io sto muro, sì Vabbè, perfetto Andiamo Let's go Perfetto, perfetto, perfetto Apriamo il bunkerino E te, Calpi, quanti materiali hai? Ho 30 Anche io, ma te l'hai messo varissimo Comunque, la cosa Il bunker dell'autorità mi sa che è uguale a quello vecchio, eh Sì, sì, identico Sì, sì, uguale, identico No, hanno fatto una chest, mi sa Ti dici? Vabbè Calpi, siamo pieni zeppe di cura bombe Pieni Mamma mia Uno scaroro, ottimo No, no, tranquillo Usiamo le cura bombe a questo punto Vabbè, ma prima Sono gratis Devo stare, ragione, ragione, ragione Finché sono gratis Dove dire che li prendiamo Abbiamo anche lei Scudone Calpi, io sei cura bombe Qui c'è un'altra per terra Oddio, ma quante Ma quante ne abbiamo? No, regà, perfetto, proprio Questa partita è perfetta, eh Ma vai, allora Io faccio così Mi tiro una cura bomba Dammi un'altra Vai, eh, tieni Perfetto Vai, ti porta a tiro scudone No, la cura bomba Che ha mai dato? Scudone la tengo io Ah, no, ho sbagliato, scusami Che ha mai dato il cecchino? Ma Calpi Allora, prendo il caccia Che è molto voglio del cecchino E let's go Cioè, regà Non so se avete visto Il video di ieri Ma, beh, abbiamo fatto Il devasto con il cecchino, eh Calpi Ti ricordo Il calcio Tipo 6 kill Con il calcio Non lo so In testa poi tutte Una di Noscop 2.40 Fantastica Torniamo su, torniamo su Qui c'è anche uno scudone Perfetto Ah, ci sta, ok Allora, adesso l'obiettivo è vincerla L'obiettivo ovviamente Ora è vincere la partita, regà Come al solito Calpi, porcacchio Gli schiacciati davanti a me Allora, comunque Usciti dall'autorità Facciamo un po' un punto Della situazione Ti a darmi come sei messo, Calpi Allora Scar, tattico blu e P90 Scar, tattico blu e P90 Ok Mamma mia E poi cure? Cure, c'ho 6 mini e 3 big 6 mini e 3 big Io 6 cura bombe Cioè, Calpi A cure Ci sparano? Ci sparano? Da me nord-est Da te invece dall'altra parte Perfetto Let's go Appena tira fuori la testolina Gli arrivano di quelle cecchinate Eh, perfetto L'ho detto e non l'ho fatto Bellissima Hai visto, Calpi? Questa è una cecchinata da pro player Si chiama così, Calpi? È il nome tecnico Allora Cuscio? Sì, sì, si chiama cecchinata da pro player 35 bianco Vai Vai, spamma un po' Bravissimo Spamma Io aspetto che quell'altro Tira fuori la testolina Ok Dai Allora, dai, ma questi qua In teoria sono pure fuori safe Cosa aspettano? Sì, sì, sono fuori safe Che cacchio aspettano, infatti Magari hanno medikit Erano pure messi malissime Eh, possibile Niente, non l'ho preso Ok, bravissimo Va bene Ci conviene a sto punto Boh, aspettiamoli Vieni qua Cap, sei una pippa Sei una pippa Calpis Pusciola sotto Cioè, io Non posso avere a che fare Con un incompetente del genere Capisci? Calpi hai ragione Scusami Volevo fare una cecchinata io Invece mi ha cecchinato lui Vabbè, ok Ok, dobbiamo scaldarci, raga Con i cecchini Va benissimo, va benissimo Dobbiamo scaldarci Calpi, intanto ti ringrazio per il rest Questo mi ha fatto un danno incredibile Cioè, mi ha devastato Mi ha fatto un 2,40 assurdo Se per caso pure Ho deciso di cecchino Sì, sì, sì Te per caso pure normale li hai? No, purtroppo no Ok, allora vieni qui Che mi tiro una cura bomba Fatti Ok, allora facciamo così Aspetta che magari aveva bende Aveva bende? No, è una domanda No, non ce l'ha No, niente Pazienza, pazienza, pazienza Mi tiro Cura bomba, scudone E vieni qui che me la tiro insieme a te Ok Calpi, all'autorità è rimasto un po' di cura bomba volendo Beh, penso proprio di sì Beh, sì Ce ne erano tipo tre extra Esatto Allora, me ne tiro Eh, raga, arrivo full vita, dai Pazienza Vai, vai, vai Ne ho sprecate un pochettino Calpi Però mi conviene arrivare full vita Rampinozzo e andiamo a prendere la cura bomba l'autorità Let's go Calpi, spero che quello che ci serve ora sono i materiali Cioè ne ho Questo Calpi Arrivo Inizio da me con la barca Arrivo, arrivo, arrivo Mannaggia lui Devo caricarla Perché non hai una R? Sì, ho uno scar Ah, ok Preso, preso, 30, 30 Bravo Qui, oh, scuolo 25, non scelto Ok, non posso prenderlo 25, non scelto, ottimo Eh, sì Può giocare un rampino Va fuori safe Ma perché va fuori safe? Ma cosa fa? 35 Vabbè, io posso puscire perché ho il rampino 23 Stava fettando con me adesso Ok Porcacchio Il mio problema è che Mi sta pusciando anche l'altro team Vado addosso, gli vado addosso Grandissimo Guardalo che pippa Vai Ma questo qua neanche se ne è No, non l'ho preso, cavolo Ma io ero vicinissimo Vai Rampino giù Calpettetto dietro, eh No Oh, mi ha preso in aria Ma cosa? Ah, porcacchio Mannaggia oggi tutti forti tra noi Con il rampino Con il rampino, con il cecchino Vedi, non so manco dirlo Lo sono anche dislessico oggi, cavolo Morto, ok Grande, Calpi Cioè, scusa un attimo Quante kill hai te? Io lo sei Ah, ok Pure tu, vero? Va bene, no, no Era giusto per chiedere, eh Giusto per confermare un attimino Hai per caso cure di shield? Sì, sì, tranquillo Ok Tieni Ma se magari non vai dall'altro lato della mappa Vai tranquillo, Calpi Sto solo andando a fightare Stai super tranquillo Fatti le cure, magari Che dopo ti becchi un edge Non ho cecchinato Attento che c'è un altro team Che mi spara da chissà dove Oh, guarda lì Ho visto la morte in fatta Ma quanti sono? Ma come hai visto la morte in fatta? Chi cacchio ti ha sparato? In fatta Eh Calpi, oggi sono un po' dislessico, ok? Perdonami Oh, c'è gente che ci puscia Ci puscia, no? Oddio, mi ha fatto un botto di danno Ma oh Ok, l'ho ucciso, eh Che cacchio, incredibile perché Ho due, tre HP Vai che è morto Vai che è morto Regà, la P90 è trenta volte più forte No Eh, sì, la P90 sì, è vero Sì, sì, la P90 è stra più forte Sì, sì, l'ho killato Calpi, a cuori si è messi abbastanza bene Eh, già Il mio problema Ora sono i materiali Eh, io le ho Ne ho mille i passi Ne hai mille? Ok Sì Se vuoi tenete un po' Eh Tieni qui Calpi ma Tenete tipo Qua La metà del lente Ok C'è una cosa che non mi piace di questa season Che i suoni delle tue build Sono esattamente uguali a quelli delle build nemiche Ah sì, non me ne sono neanche accorsi Sì, ma io Anche tipo quando te camminavi sul cunicolo E in teoria il tuo suono dovrebbe essere un po' più basso Oppure è leggermente diverso Ah, i passi Sì, i passi, esatto Ah, ma non sembra Io non me ne sono accorsi Boh A me sembra così Poi, non so, magari È una mia sembianza Aspetta Calpi È sceso, ma perché è sceso? No, no, io ho fatto un oscop Vabbè, pazienza Niente, volevo fargli un oscop Cavolo Ok, killiamolo Calpi, ha la P90 Questa qui, perfetto Ottimo Abbiamo anche il pump Quello lì a ricarica, buono C'è pure qua davanti il tipo Sì, ho tolto la Thompson Orco, cacchio Va vai addosso Gli ho fatto 100 Gli vado addosso No, ho jumpato Non ci credo No Lo seguo, lo seguo, lo seguo Vai, vai, tranquillo Tranquillo È più giù di me? Mi spara anche un altro? Ah, c'è un altro team, cavolo Sì, lo so, ho visto Ti seguo, ti seguo Va, vai, vai, tranquillo Vai, let's go Niente, niente, niente Sono morto No, no, no Ci sono con te, tranquillo Ho sbagliatissimo a fightare Tieni un mini Grazie Me lo uccido io, sta pippa No, tranquillo, Calpi Ora ce l'ho io Ok Ora sono ready 50 Ma dov'è? Oh, no, no Ok, ottimo, ottimo, ottimo Mi sa che me lo devo fare io, però, eh Va bene, tranquillo Allora tira un po' di cura a bomba in generale No, vabbè Non mi servivano se devo fare Eh, ok, ma era meglio Per noi Ci stiamo pushando Let's go Calpi Ok Adesso mi faccio il chug Porca cacchio, anche un altro Mannaggia loro Ok, Calpi Dammi due minuti Cioè, sì, vabbè Due minuti E 15 secondi Due minuti per farsi il chug Calpi, cioè La prendi, va la comoda Bicchiere di cristallo Proprio per bertelo Ok Io non so se Ho fatto una brutta mossa Ma penso proprio di sì Eccolo, eccolo, eccolo Sono dati in low Ok, sono con te Ma dove c'è un retico Niente E qui ce ne sono due Ok Ah, ma sono delle pip Non l'ho preso No, siamo passati in quel momento La calciatteristica ti giuro che è stra-wise Dai, una cechinata ce la fai Sei fuori forma col cecco Sì, oggi sono molto fuori forma col cecco Gli rubo il muro Attento, Calpi Vai Ma sta cacchina è pieno avanti È precisa come Oddio, ero mezzo crashato Come ricercato, Calpi Tu poi mi stavo uccidendo perché ero mezzo crashato Calciatil, c'è morta Bravissimo No, 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 un altro team da dietro Attento, Calpi, un altro team Un altro team Sì, ho un 2v1 Ti brucia 1v1 1v1, 1v1 Ok Mi ha ucciso Devo farmi Non mi finisce, non mi finisce No, invece mi finisce Ma perché? Cavolo Calpi, ma è 1v1, è fine game Eh sì, lo so, per questo Ma non me ne ero accorto Ma raga, è l'ultima persona Ok, Calpi, fatti la chug Giocatela bene Vai, vai, tranquillo Cioè, ho mai perso una partita che tu ti ricorda? Eh, devo ricordartelo Eh, sì Calpi Vabbè, lascia stare, lascia stare È meglio cambiare domanda, direi È assolutamente meglio Calpi Quanto ti manca? Ho finito Let's go Perfetto Adesso lo uccido pure il no scoop Per sbettizzare No, no Non ce la fai Te l'ho detto Ok, ok, ciao Calpi Tocca tra serie E vinceci questa partita Codice cap per la vittoria, Calpi Codice cap 3 Ecco, te lo Aspetta 3 Vieni qui 2 Ma cosa scappi? Porcacchio Ti servirebbe rampino in questa situazione Sì 3 Eh, sì Porcacchio Eccolo qua È tornato giù Ma che cacchio stai facendo questo? Ma sì, sto qua È confuso Ma prima va su Poi va giù Ma dove va? Va le montagne russie Eccolo Eh, vabbè 3 2 1,75 1,50 Non mettermi ansia col timer 1,40 1 0,75 E boom 0,70 0,50 Te farà Allo shield Ma non ce l'ho io 0,45 Lo sto odiando Te lo giuro 0,36 Cosa fai con quel coso? 0,20 0,15 Guardalo Cacchio 0,14 Ok, non ha più shield Non puoi continuare a buildare Eee What? Ti ha fatto no scope? No, mi ha distrutto col pompa Perché è troppo forte quell'altro pompa Ma hai pensato che dovessi fatto no scope? No, no Mi ha fatto tipo 100 e passa col suo pompa Fortuna che è la chaga infinita, Calpi Fortuna se non mi spacca tutto Due secondi per favore Sì Mamma mia Oddio Uh Dai, no Fra, questo qua ti giuro Sì, sta tryhardando come Vabbè, continuo con il mio timer 0,13 0,12 Ma dai, ma vai a piegare Vai, dai Ciao Calpi No, fra La gente Non lo so io Guardalo 0,11 Dai, regà Uh, ti sono partito da Da 3 Sono arrivato a 0,11 0,10 Adesso faccio vedere Dai, Calpi che voglio arrivare a 0 E tu vinci Sì, però è un po' un timer Tarocco Vabbè, è un po' tarocco Perché in base alla partita 0,9 No, 0,09 Grande 0,08 Se tu mi fai favore di morire Vabbè, ovviamente 0,07 Calpi Questa qui è il tuo momento Dai 0,06 Mi hai rotto, cavolo Mi hai rotto 0,05 0,04 E Let's go Vittoria reale Condice capo Nel negozio oggetti Come al solito Regà, l'altra challenge Otra vittoria Questa volta Devo ringraziare Calpis Perché effettivamente Ha fatto molto In questa partita Lo devo ringraziare La challenge Come al solito È riuscita Regà, vi ricordo Intanto di iscrivervi al canale Anche a quello di Calpis Non dimenticate Condice capo Nel negozio oggetti Per altri regali E mi raccomando Un bel like al video Se vi è piaciuto Detto questo Non ci vediamo al prossimo video Ciao, 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 ciao